240.000 occupati, l'8,5% in meno rispetto alla media nazionale. E disoccupati che rimangono tanti, troppi, 44.000 persone solo nel Salento Leccese, il 7,2% in più rispetto al resto d'Italia. Tasso che scende rispetto allo scorso anno, certo, creando però una speculare impennata di ciò che rappresenta l'altra faccia della medaglia, l'inoccupazione. Quasi 34 persone su 100, due in più rispetto a un anno fa. Un impiego non lo cercano neppure, certe di non trovarlo. A fornire la fotografia della situazione alle soglie della festa dei lavoratori è l'osservatorio economico di confartigianato Imprese Lecce sulla base dei dati Istat. Nel Salento Leccese il numero degli occupati è rimasto sostanzialmente fermo, ma bisogna entrare dentro i numeri per capire cosa è successo. Innanzitutto, ad aver perso il lavoro sono state soprattutto donne, mille in meno rispetto a un anno fa, passando da 88.000 a 87.000. Hanno recuperato invece gli uomini da 152.000 a 153.000 occupati. occupati, segno certamente che quando si licenzia il più delle volte si preferisce colpire il lavoro femminile e segno anche che ad essere spazzate via dalla crisi sono state soprattutto le piccole aziende del manifatturiero dove le donne hanno da sempre rappresentato l'ossatura. C'è da aggiungere dell'altro però, perché per amore di verità è da dire che nei 240.000 occupati sono conteggiati anche i cassi integrati e che ha subito una procedura di mobilità. Era stata la CGL tre settimane fa a fornire il quadro di questo, il boom della cassa integrazione straordinaria con 247.000 ore di lavoro a fronte delle appena 8.000 dell'anno precedente. Come dire, ci si avvia lo smantellamento definitivo di quelle attività produttive dei posti di lavoro. In questo contesto è che si devono leggere anche gli altri dati. Calano i giovani disoccupati al di sotto dei 30 anni da 36,3% al 29,6%. Per i ragazzi di età compresa tra i 15 e i 24 anni invece la percentuale raggiunge quasi la metà, il 47,3% è senza occupazione. E la gran parte sceglie di stare in silenzio e di non bussare a nessuna porta, suggerendo di conseguenza alle istituzioni il come dovrebbero cambiare, anche ad esempio i centri per l'impiego, la formazione e gli investimenti in settori ben precisi. Il Salento Cina d'Europa ormai è solo una foto sbiadita e se ancora non ce ne siamo resi abbastanza conto è anche grazie al tampone di ammortizzatori sociali che però per la gran parte sono in scadenza.